L'arcantea cade rovinosamente al palatagliate nel derby contro la Biandini-Clagg-Firenze. I ragazzi di Russo restano in partita per poco più di un quarto di gara, poi sono gli ospiti a guidare le danze e a niente serve la disperata rimonta nel finale. Partono forti i lucchesi che mettono in mostra un ottimo attacco, capace di mandare a rifletto ben 27 punti nel primo periodo, dando la sensazione di poter controllare il ritmo della partita, ma è solo un'illusione perché nel secondo quarto cambia la musica. Coach Paolini chiama la zona e Luca resta secco per oltre sette minuti. Di contro i gigliati guidati da Rabaglietti e Casadei, con la panchina grande protagonista, chiudono il tempo avanti di otto lunghezze dopo una tripla dall'angolo di Rabaglietti. La preghiera da centrocampo di Barazzanti viene letteralmente sputata dal ferro e la partita dei biancorossi sembra già assegnata. Alla ripresa sono ancora gli ospiti a dettagli ritmi e a trovare il preziale che uccide la gara. Proprio quando Luca metteva sul perché il massimo sforzo per rientrare, tra i tripli devastanti l'ultima di Capitanelli allo scadere dei 24 secondi, dà addirittura il più 19 sul 69 a 50, punteggio di fine terzo periodo. Nell'ultimo quarto la partita vive sui nervi, non basta il migliore Bottioni dell'anno e la consueta generosità di Casagrande. L'Arcantea si ravvicina sul meno otto dopo un canestro proprio di Bottioni, ma è carol di a scacciare la paura con un canestro in penetrazione più fallo. Il finale in discesa per i fiorentini che trovano nel cronometro un prezioso alleato e alla sirena possono esultare per una vittoria 83-73 che scaccia la crisi e che forse apre qualche interrogativo per i lucchesi, incapaci di contenere gli avversari che chiudono con un eloquente 62% dal campo contro il 40% degli uomini di Russo.